Molto bella, molto bella, molto bella. Sto girandola, la trovo stupenda. Complimenti agli organizzatori. Ciao! E' colpa tua lo stesso, se no non costa. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grande. Quello collato. Quanto costa ragazzi? 5 euro. Soltanto. Forse ne prendiamo due allora. Due, due, uno per te Camilla. Ciao! Dai, forza la Juve, come l'ultima la Juve. Vesta la Juve, appunto ci sarebbe vincere. Grazie, grazie. Devo dire che sono rimasto ammirato. Organizzazione splendida, ma soprattutto quello che mi è piaciuto è il clima che si respira. Gioioso, tranquillo, primo di qualunque polemica e solo del gusto di stare insieme. Bravissimi soprattutto i ragazzi. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.